Quante volte salti la colazione e a metà mattina devi prenderti o un caffè o un cornetto o un panino per placare la fame? Oppure sei sicuro o sei sicura che la tua colazione ti dia tutti i nutrienti che servono ogni giorno al tuo corpo? Ciao, siamo Monia ed Emanuele. Su Instagram ci trovate con il nome Lowell Descavoli. In questo video ti parleremo dell'importanza di non saldare la prima colazione e di come farla in maniera corretta per affrontare al meglio la tua giornata. La parola colazione o breakfast in inglese significa letteralmente rompere il digiuno notturno. Dopo circa 12 ore senza cibo la colazione diventa il pasto più importante per l'organismo perché gli fornisce l'energia, l'energia necessaria per iniziare la giornata alla grande. Tutti abbiamo spesso sentito il detto da persone più anciane di noi, una colazione da re, un pranzo da principe e una cena da poveri. E nulla di più vero è stato mai detto perché è proprio di mattina che abbiamo bisogno di energia e sano nutrimento a disposizione poi per tutta la giornata, per partire con una marcia in più e con la giusta carica. Seguendo complessivamente un'alimentazione più equilibrata e regolare si riduce il rischio di problemi di salute. Diamo al nostro corpo un maggior apporto di vitamine e minerali. Cos'è realmente una colazione sana ed equilibrata? Una colazione equilibrata aiuta a soddisfare l'apporto calorico giornaliero raccomandato di proteine, carboidrati e grassi buoni, dati da cibi naturali o grazie all'apporto di integratori. La colazione equilibrata che noi da anni ormai utilizziamo regolarmente e che ti possiamo consigliare è ricca di nutrienti naturali, sia per il tuo benessere fisico che per aiutarti a mettere in forma, se questo fa parte dei tuoi obiettivi. Ed è così composta, ce li parli tu Monia? La prima cosa è idratarsi con un bicchiere d'acqua con qualche tappino di aloe, che aiuterà a idratare, venire e disintossicare il tuo corpo fin dal mattino. Come seconda cosa c'è da rivitalizzare il proprio corpo, grazie all'utè infuso per voi e tirs energizzante alle erbe per ritrovare la vitalità al mattino. E la terza cosa da fare è nutrirsi con un colato proteico gustoso o alla frutta o alle creme a piacimento per iniziare la giornata con il pivo dei nutrienti che abbiamo bisogno. Quindi in conclusione, sia che tu puoi avere un miglior benessere fisico, rimetterti in forma, sgonfiarti nei frutti giusti oppure desideri migliorare le tue performance sportive, ricordati che il pasto più importante che non dovresti mai saltare è proprio la colazione. In questo video ti abbiamo parlato dei benefici di una colazione equilibrata per raggiungere velocemente i tuoi obiettivi. Quindi buona colazione a tutti! Non dimenticarti di iscriverti al nostro canale e attivare la campanella, così riceverai sempre aggiornamenti nell'uscita dei nostri prossimi video. E se vuoi migliorare il tuo benessere, iscriviti per ricevere la consulenza gratuita, così ne parliamo insieme. Troverai il link qui sotto nella descrizione del video. Noi ti salutiamo e ti aspettiamo nel prossimo video. Ciao da Emanuele, Emonia, Longo e Nescavolo. Ciao! Ciao!